È da un po' che faccio video su Audi. Io ti giudico. È una cosa vergognosa. Che cosa c'è di male? Mi pagano per allegrare la giornata alla gente. Non ci facciamo pagare per dosi di positività. Siamo dei supereroi. E siamo una squadra. Se fai delle cose solo per soldi, facciamo tutti brutta figura. C'eravamo proprio sbagliati su Audi. Non c'è di che. Perché siete così ricchi? Audi. È un'app dove pagano le celebrità per inviare messaggi. No, 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 vi prego, non ditemi... Audi a tutti! Ehi, bella! Li prendi in giro. Ehi, grazie, ragazzi. Ho finalmente ripagato il mio debito studentesco. Non c'è di che. Perché sei su Audi? Non sei una suelebrità? Su Audi? Io sono Cupido. Salve. Questo è un messaggio d'amore. Da Chris a Mike. Cosa ridicola? Che ti pagherebbe mai? Te l'ho detto. Chris è... Chose è la celebrità più popolare, sai? No! Ecco la classifica. È primo. No, 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 no! Ho sentito che vogliono convincere Joey Lawrence a iscriversi. Joey Lawrence? È un animale! No, Joey Lawrence! È benedichissimo! Perché ridi? Lui e Joey Lawrence hanno un conto in sospeso. Hai un conto in sospeso con quel Joey Lawrence. Il Joey Lawrence che ha recitato in Blossop. Il Joey che ha fatto Melissa e Joey. Proprio lui. Crede di avere la mascella migliore, cosa non vera. È molto pronunciata. Nel 30% della sua identità è tutto... È ovviamente vero. D'accordo, smettetela. Come faccio a vendermi su Audi? Scarica l'app. Io ti batterò, Schwartz. È una promessa. È una promessa che non si spezza mai. Le ossa? Certo. Facciamo una gara. Il cuore? Ogni giorno. Questa è una gara? I denti! Sappiamo tutti la risposta! Ho detto questa è forse una gara? È sempre stata così competitiva. Sei anni fa vi sei scherzando che avrei detto fiaccole più volte di lei. E ogni volta che dico fiaccole, devi dire fiaccole anche lei. Fiaccole, facciamo una gara su Audi o no? Sono già partita. Ciao, Omar. So che il tuo capo ti ha urlato contro. Brutta situazione, amico. A nessuno piace. Ma a volte una piccola scossa al sistema può farti ripartire. Fa scintille. Ciao, Sabrina. Sono io, Shoutout. Hai incitati a gran voce. Ehi, Winston. Qui per la volta è la più scintillante tra tutti i supereroi. Salve, signora Fenstein. Sono Abel, ma potrei anche essere lì da lei. Ciao, inserire i nomi qui. Sono B e poi Reinstorm. Ti auguro un felice B e poi Armitzvall. Ciao, Kylie. Sono io, Cupido. Questo messaggio è da parte di Travis, che è molto dispiaciuto per le cose che ha detto quando era affamato. Quindi non fare la cupida idiota. E perdonalo subito. E vivi sempre con il volume al massimo. Shoutout chiude. Sono Abel e vi saluto con trasporto. Fa scintille. Frase d'effetto. Ciao. Ne sta iniziando un altro. Bella, Gaperman. Qui la tua amica elettrizzante Volt. Di solito non si comprano questi video per se stessi. Ma chi sono per giudicare? Non può vincere. Forse ti sei confusa e hai sbagliato tasto o non sa... No, no. Che cavolo, mica? Tu non vincerai, Ciapa. State usando i nomi veri. Sta zitto, Mais. E siamo a tre. Ci presentiamo? Cosa? Io sono Buzz. Bello, ma che fai? Interrompo, Audi. Era un vero epic fail. Un video epic fail. Inviavolo. Io sono Capitanella. Invio tutto quello che mi fai. Capitola? E adesso schiaccio. Ehi, che sbagliato. Vediamo chi sarà il numero uno, adesso. Sì. Perché voi non state ridendo? Perché quel video rivela tutte le nostre identità segrete. In un unico video? Questa sì che è stupidità. E darò un messaggio per Mary Gaperman. Quella giornalista di Kelly L.V.Y. Ancora peggio. Perché stai ridendo? Nascondo la disperazione. Ok, nuova regola. Le promesse si possono spezzare. Vieni. Dopo, tocca a me. Sembrava il caratteristico sciacone del programma TV di Joy Lawrence. Puoi scommetterci. No! Quella la chiami mascella? Jabba de Hatha ha una mascella migliore della tua. Tutti i bambini hanno avuto il loro turno? Non ancora. Grande. Allora adesso tocca a me. Sto per dare un bel colpo a quella pignatta. Sì! Oh, no! 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 Oh, no!